Uno dei primi biografi della storia è stato Plutarco che a cavallo tra primo e secondo secolo ha scritto vite parallele. Perché ci interessa? Perché questa quest'opera di Plutarco è un'opera in cui Plutarco racchiude le biografie di diversi personaggi storici importanti della sua epoca e delle epoche precedenti, accoppiandole tra di loro in base ai vizi e le virtù dei personaggi. Cioè, riassunta in maniera molto barbara, l'opera consiste nel mettere insieme, nel comparare le vite, vite parallele appunto, di personaggi storici che hanno avuto gli stessi vizi, le stesse virtù durante la loro vita, per vedere come alla fine del loro percorso abbiano avuto una fine più o meno comparabile. Cioè, quello stile di vita li ha portati ad avere più o meno gli stessi esiti, gli stessi risultati a livello politico, sociale, personale. Perché ci interessa questo? Perché nei giorni scorsi c'è stata un'intervista di Tracy McGrady che ha parlato di Carmelo Anthony, l'ha toccata piano, dicendo, secondo me Carmelo Anthony deve ritirarsi. Ora, Melo e McGrady sono due giocatori che secondo me hanno molte cose in comune. Prima di tutto sono, e sono stati per quanto riguarda McGrady, due grandissimi realizzatori. Cioè, due giocatori dal talento offensivo fuori dal comune, tra i primissimi nella storia della pallacanestro mondiale. Entrambi hanno avuto una predilezione, diciamo, per la fase offensiva rispetto a quella difensiva, mettiamola così. Ma soprattutto entrambi hanno, secondo me, mostrato soltanto una parte di quello che poteva essere il loro potenziale. Per quanto riguarda McGrady, il soprannome dice tutto, The Big Sleep. Per quanto riguarda Melo, più o meno siamo lì, nel senso che sono stati due giocatori che non verranno ricordati per l'ardore agonistico, quella competizione insita proprio nell'animo, nello spirito, nel carattere del giocatore, che magari hanno avuto giocatori come Kobe Bryant, Michael Jordan o altri grandissimi del gioco. C'è però un altro fatto che lega, secondo me, Tracy McGrady a Carmelo Anthony, o che li può legare in relazione proprio all'intervista di McGrady e alle vite parallele di Plutarco. A 29 anni, Tracy McGrady ha avuto quello che, dall'altra parte dell'oceano, chiamano Turning Point, cioè ha avuto quel momento della carriera in cui, più o meno all'improvviso, le cifre in rendimento calano drasticamente. In quel momento, Tracy McGrady ha capito che avrebbe dovuto cambiare modo di approcciarsi alla NBA e, da quel momento in poi, le sue cifre sono andate sempre a diminuire fino all'ultima stagione che ha giocato soltanto i playoff pochissimi minuti con gli Spurs. Tracy McGrady a 29 anni non era certamente vecchio, aveva avuto dei problemi, aveva dei problemi alla schiena, famosi, ma non solo, però non era vecchio. Voglio dire, sei anni prima aveva chiuso una stagione con oltre 30 di media a Orlando. Quattro anni prima c'erano stati 13 in 35 secondi che hanno fatto il giro del mondo, la partita contro gli Spurs, Popovic una statua di sale, per dirla alla Flavio Tranquillo. Eppure, da quel momento in poi, la carriera di McGrady è cambiata. Quello che dice Tracy McGrady, non lo dice esplicitamente, ma comunque si può ricavare dalle sue parole, è che a 33 anni stavolta la stagione dello scorso anno di Carmelo Anthony a OKC potrebbe essere stata quella del turning point. E in effetti le cifre rispetto a quelle che aveva avuto in tutti gli altri anni di carriera nella passata stagione a OKC di Carmelo Anthony sono molto molto calate. A 33 anni anche Melo non era certamente vecchio nella passata stagione. Voglio dire, anche nel suo caso, sei anni prima c'era stato il passaggio tra Denver e New York che aveva scosso tutta la NBA, il coming home, perché comunque Melo è nativo di New York. Era stato un passaggio che aveva fatto molto parlare di sé. 13 anni prima, ok, siamo a inizio carriera, ma comunque Melo fu scelto alla numero 3 assoluta del draft del 2003 proprio dai Denver Nuggets, dopo LeBron James per l'appunto e Darko Milicic. Comunque, voglio dire, in quel momento di carriera ovviamente tutti dicevano che LeBron era LeBron e sarebbe stato uno di quei giocatori che avrebbe fatto la storia del nostro sport. Però c'erano anche tanti che dicevano però Carmelo Anthony a livello offensivo è più completo, ha un tiro dalla lunga più affidabile, ha una gamma di soluzioni offensive molto più ampia. Per cui era un giocatore che comunque veniva considerato Elite d'NBA e Elite NBA lo è stato per tutto il corso della sua carriera. Ora, può essere vero che la stagione dell'anno scorso a OKC per Carmelo Anthony è stata quella del turning point? Non lo so, io sono parzialmente d'accordo con McGrady, nel senso che Melo è arrivato secondo me a un punto della sua carriera dove deve decidere che strada vuole prendere proprio come giocatore. Mi spiego meglio. Se Carmelo ha intenzione di avere una seconda fase di carriera da Gregario, chiamiamolo, o comunque non da prima punta ma da sesto uomo come è stato in questa breve apparizione con Houston, o comunque da giocatore che insegue l'anello ma non da principale protagonista in una squadra che si basa su altri giocatori e che poi ha lui come valore aggiunto, allora secondo me, mia personalissima opinione, ha ragione McGrady e fa bene a ritirarsi, perché rischia di fare proprio la fine di McGrady che è stato per gli ultimi anni un'agonia, cioè l'ombra del giocatore che era stato, l'ombra di se stesso, del vero Tracy McGrady e quindi può convenire per quello che comunque sarà un Hall of Famer ritirarsi anche adesso. Se invece Melo pensa al suo futuro così come l'ha pensato per esempio Kobe Bryant, ossia da Carmelo Anthony, da giocatore come lo è sempre stato, prima punta, un talento offensivo, un ruolo fondamentale nella propria squadra, anche se quella squadra non può inseguire l'anello, gli ultimi anni di Kobe Bryant ai Lakers, i Lakers non erano una contender, però non è che Kobe è andato a giocare a Golden State da sesto uomo di lusso per portarsi a casa un altro anello che sicuramente avrebbe voluto, però non l'ha fatto. Allo stesso modo se Melo trova un ambiente in cui può essere Melo, secondo me ha ancora senso rimanere nell'NBA e giocarsi l'ultima fase di carriera, però non deve snaturarsi, non deve cercare di diventare quello che non è mai stato e che secondo me non potrà mai essere, perché questi giocatori che hanno queste attitudini a livello fisico, a livello tecnico, a livello proprio di personaggio sociale, non soltanto di giocatore, non possono dopo 10, 15, 20 anni di carriera improvvisamente snaturarsi e diventare Manu Ginobili che è nato in NBA come sesto uomo, da noi no ovviamente, quando giocava alla Kinder Bologna era il go-to guy, però in NBA è nato sesto uomo. Carmelo Anthony secondo me non può inventarsi sesto uomo a 35 anni. Ovviamente non sto neanche paragonando Kobe a Carmelo Anthony perché abbiamo detto in apertura, cioè c'è proprio un gap in termini di competitività, di ardore agonistico, quel fuoco dentro che aveva Kobe Bryant e che non ha mai avuto Carmelo Anthony. Però ecco, la stagione del turning point secondo me Carmelo Anthony può averla avuta, nella passata stagione, però adesso deve scegliere e in base alla scelta che farà Carmelo Anthony relativa al proprio futuro si vedrà se avrà ragione Tracy McGrady oppure no, cioè se sarà meglio che si ritiri oppure no.